Mi è persa perché purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le varie occasioni da gol che siamo riusciti a creare nel secondo tempo. E perché purtroppo un errore, una disattenzione ci ha penalizzato e ci ha tagliato le gambe. Penso che sicuramente gli episodi possano decidere le partite. È un peccato, assolutamente un peccato, soprattutto per la mia squadra, soprattutto per i miei giocatori. Perché credo che meritassero di più come risultato finale. Io personalmente con Federico non ho parlato, però oggi ho fatto una cosa che nella mia carriera mi è capitato poche volte. Ho parlato alla squadra e ha subito e immediatamente finito la partita. Un po' perché 5, 4, 5, 6 nazionali andranno via e quindi avevo bisogno di dire delle cose. Non ho parlato con Federico, ho parlato con la squadra dicendo che siccome c'era sicuramente molta delusione, ed è giusto che fosse così in questo momento, è giusto che sia così, ma che assolutamente devono e dobbiamo essere molto fiduciosi, molto positivi, perché la prestazione di oggi è stata una prestazione di una squadra che sta crescendo, una squadra che sono convinto che continuando a crescere e lavorando così diventerà presto di una squadra competitiva.